ciao ciao amici dai saurita pazza ciao 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 allora ragazzi scrivete e mettete la prima cosa che vi dico comunque oggi parliamo di svolta la borsetta la mia borsetta oggi vi faccio vedere che cosa ho dentro la mia borsetta mia borsetta l'ho preparata qui eh da là l'ho presa metta qui adesso vi faccio vedere che cosa ho dentro eh allora siete curiosi di che cosa c'è qui dentro non è niente di importante ragazzi non c'è niente di importante però su quel che io quando esco mi porto dietro non lo so neanche io cosa c'è dentro è sinceramente gli occhiali li ho qua così guardiamo allora intanto iniziamo con questa cosa così sì allora qua ci sono aspettate ci sono i centesimi ok c'erano i centesimi qua dentro ah guardiamo dentro questo pochino che non so neanche così ah c'è la chiave le chiave di casa le chiave di tutela un altro centesimo ok vediamo qua se c'è qualcosa uno scontrino scusa a panetteria un'ora e venti panetteria sì panetteria vabbè da cos'è mia puliamo la borsetta eh facciamo un po' di pulizie nella borsetta ok quindi non c'è più niente qua non c'è più niente che appoggia si è più vuoto non so perché se li ho vuoto ok va bene allora vediamo cosa c'è qua cos'è questo ah numero dei taxi questi occhi boh non lo so anch'io vabbè buttiamo aspettate eh quello da buttare è di qua questo è quello di detenere occhi 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 questi ragazzi servono eh come c'è qua una chiave uno scontrino via allora ah queste sono delle vaccinazioni un altro occhi dietro la mascherina occhi mascherina scontrino la carta dell'occhio ehm un'altra mascherina uno due una penna una penna una penna con un occhi già aperto consuma mi è arrivato massaggio penna sempre utile non so niente se scrive vediamo se scrive no no non scrive vabbè utilissima che non scrive che becchia pelle che ho come sconciata vabbè poi un'altra mascherina un'altra mascherina un'altra mascherina un'altra mascherina poi la segretta elettronica che mai scarica questa la uso per l'inverno quando non voglio uscire e fumo in casa poi poi vediamo se c'è qualche altro no qui non c'è più ok votate qui qua eh ah nei lati vediamo cosa c'è nei lati se c'è qualcosa cos'è cos'è ah scontrino poi biglietti del poi dove si uscì quei biscotti che mi danno come si chiama i biscotti purtroppo va bene e ci sono i bigliettini scontrino via andiamo qui giù la borsetta perché c'è no poi ah qui di fianco c'è il gel delle mani ma è così finito di prenderlo un pezzo di fazzolatina di carta via queste ok poi siete sicuri di vedere quello che c'è in borsa l'altro scatole gli occhi scatole vuoto poi cartigenica può servire quando vai fuori a fare la tipica magari scappati bene tipica e usa la carta per il zoma scontrino scontrino un'altra mascherina scontrino un altro pezzo di carta questo trova gli indicati però eh questa è una cartiginica però li tengo sempre da parte scontrino 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 bah un cazzo di carta scontrino scontrino schiaccia scontrino scontrino ecco indietro che non lo uso scontrino 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 ma non si vede neanche sbiadito va bene anche questo scontrino sbiadito ma cosa c'è? c'è lo scritto che è qualcosa? ah no qua ci sono, come sono i fazzolettini? tovagliolini? sì, tovagliolini di carta qua ci sono altri tovagliolini di carta, mettiamo da parte una foto che c'è di carta facciamo un po' di pulizia e la borsetta poi c'è ancora qualcosa? beh, portafoglio banana portafoglio vuoto? la banana, sì la banana aspetta eh oh c'è un po' di monetine ho le monetine un po' di monetine posso riempire il portafoglio? ma va bene qui dentro aspetta qui c'è un'altra cosa questo è il sale questo è il sale sale non so che cosa ci fa vabbè ah qui c'è uno scontrino scontrino e qua monetine monetine pezzo di carta un altro pezzo di carta la tartalla ah qui c'è un altro toschino ah c'è lo scontrino ok qui c'è qua qui anche qui è finito qui di là c'è lo pulito sì ok prendiamo l'altra parte ehm dietro questo che c'è l'ultimo ah qui ci sono due che vinci tre sono che ne ho vinto sono fortunatissima un'altra mascherina questo che cos'è Fest Furious ma dove ho preso sto cosa boh vabbè via questo che cos'è FF cos'è questo ho lo scontrino un altro cosa ah queste sono cose che un po' che si attaccano guarda che cos'è questo forse è quello stanno insieme mi sa che devono stare insieme questi qui vabbè sarà un braccialetto bel frosco trigger ah c'è ancora ketchup e ieri avevo tirato fuori altri due ketchup il caricatore il filo un accendino altre monete sono ricchissima ah e queste monete sono staccate con me la calamita poi sono sicura che non mi scappano le mettiamo qua dentro monetine ok dovrò buttare un po' di roba ma un pochino poi ok qui abbiamo finito il pezzo ho svuotato tutto si ah ma c'era ah c'era anche un braccialetto comunque ho svuotato tutto si tutto aperto tutto aperto non c'era la portetta poi vediamo se troviamo altri scontrini qualcos'altro quella questa questa delle invece le azioni documenti 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 e la cosa dell'avvicinazione ah il biglietto del treno non so perché lo tengo è la cosa dell'avvicinazione ancora qui un altro biglietto ecco il biscotto della fortuna via ma io devo mettere posto poi qui ci sono dei bigliettini della parrucchiera delle invece che ho preso grazie ma c'è niente ok poi un altro biglietto della vaccinazione ci ha detto un attimo ho uno scontrino sbiadito ma c'è uno scontrino poi qui c'è la tessere del telefono qui dentro ma io non so che cosa ha le del le tessere e tessere viso hype e basta ok vabbè queste serine poi le abbiamo guardato qui ci sono soldi sono ricca questi sono vecchissimi ragazzi li sto tenendo non è la vita che ce l'ho dentro questo non è dentro questo portafoglio ma è una vita che tengo questo ogni portafoglio che cambio ci metto sempre questo lo rimettiamo qui dentro ok poi apriamo di qua ah qui c'è il biglietto dove vado dai cinesi faccio timbrare la parrucchiera biglietto della parrucchiera ok qui dentro non c'è niente tessera sanitaria la patente non c'è più niente no più dentro non c'è più niente non c'è più niente allora li mettiamo dentro la patente la tessera sanitaria che sono utili chiediamo di qua niente niente e qua uno scontrido e questo niente i disegni ok vabbè e qui non c'è più niente giusto no ragazzi tutto a posto ah ecco non vi ho fatto vedere questa parte qua l'estate ho fatto vedere tutto qui non c'è niente non c'è niente questa parte qua vediamo dove c'è la momentina questa scontrido ho sputato vabbè ho fatto anche veloce ragazzi guarda anche piccolita adesso se avete visto per il zoma non c'è mai che cosa può succedere mi servono vabbè ho fatto la forse vi ho fatto vedere il portafoglio anche cercando tutto scontrido se vi è piaciuto ragazzi mettete il like iscrivetevi ne vorremmo altri video di svuota qualcosa ciao a tutti dai sono vita pazza ciao